E' scattata l'ora solare per mamme, papà, zii, zie, nonni, nonne, cugini, famigli, tutti, buongiorno, bentrovati, oggi facciamo una puntata molto, molto, molto familiare. I figli li ho detti, no, i figli non li ho citati perché sto tenendo il fiato per raccontarvi quanti siano e quanto belli siano, i figlioli di Francesca Siena e Fabio Forieri, ben arrivati, che sono meravigliosamente marito e moglie da quanti anni? 22. Da 22 anni. Sì, da 22 anni. 2001, quindi 22. 2001, siete sposi del nuovo millennio. Del nuovo millennio. Sposi del nuovo millennio e nel frattempo ci sono Matteo, in porta, 18 anni, Benedetta, di 17, sono vicinissimi. Giovanni di 15, Davide di 10 anni, dicevamo manca un cugino e c'è la squadra di calcetto. Esatto. C'è tutto, c'è tutto. Quattro figlioli. Sì, sì. È una bella, vabbè, insomma, oltre ad essere una squadra, uno squadrone perfetto, come vedete in questa fotografia, parto da Fabio invece che dalla mamma. È un bel caos a casa. Ma, diciamo che effettivamente c'è da fare, ma è un bel da fare. Che carino. E quindi è stata, diciamo, una sfida da quando ci siamo sposati, ma è stata una bella sfida. Ogni giorno è una sfida, perché figli piccoli, problemi piccoli, figli grandi, problemi grandi, ma diciamo che in questo il nostro matrimonio ci aiuta. Ma quanto siete belli, lo posso dire? Grazie. Quanto siete belli? In più c'è anche un cane. Perché chiaramente ci vuole. Due, adesso ho aumentato anche il cane. Ah, di due. Perché noi facciamo sempre così, aumentiamo. Voi siete lievitate, siete lievito madre. Sì, 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 sicuramente. Allora, una mamma, una mamma, e Francesca è una mamma, ovviamente Fabio è uno splendido papà, però Francesca è una mamma, poi vi raccontiamo quanto mamma con una capacità di estendere, no? La volontà di essere mamma anche molto oltre. Una giornata tipo? Allora, la giornata tipo inizia bene, nel senso con tutte le migliori intenzioni, perché è quello sempre, però no. appunto si sveglia a biancaneve, quindi poi chiaramente abbiamo orari diversi, nel senso noi ci svegliamo molto presto la mattina, quindi la preparazione, ormai i figli sono grandi, ecco, quindi momento, adesso è un momento un po' più tranquillo per noi, perché chiaramente i figli adolescenti dai 15 anni ai 18 anni fanno tutto da soli. Io mi devo occupare semplicemente di Davide, del più piccolo, dobbiamo occuparci anche dei cani, di portarli fuori, e poi parte la giornata. Diciamo che siamo molto indaffarati, tutti molto indaffarati, io con la mia attività di cui si parlerà in seguito, loro a scuola, Fabio al lavoro, e poi ci ritroviamo tutti magicamente a pranzo. Che meraviglia! Che meraviglia! Che cosa antica, bellissima! È una cosa meravigliosa che io sinceramente, a volte dico, era meglio quando andavano all'elementare e facevano il tempo pieno, però invece no! È bellissimo! È bellissimo pensare... Lei è stupenda perché dice la verità! Sì, 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 io dico la verità sempre, quindi è bellissimo pensare sempre, insomma, sempre a qualcosa da far mangiare, anche perché tre maschi sono, insomma, impegnativi da questo punto di vista, quindi... Quattro! È pure Fabio, e infatti Fabio poi è quello che mi aiuta di più, perché anche lui riesce a tornare a casa, insomma, riusciamo a stare un po' insieme, anche nelle nostre giornate così movimentate, però pranzo e cena insieme. La cosa bella è che con Fabio, non... e questo l'abbiamo visto quando, insomma, c'è stato questo primo contatto, no? Poi si arriva alla messa in onda, come si può dire, quella che voi vedete. Cioè, non raccontate una fiaba felice, per felice intendo dire una fiaba con melassa. Siete veri, siete autentici, quindi anche le problematiche sono quelle. Ecco, quando è il momento di decidere qualcosa che si debba fare per i vostri figli, lì si chiude il gruppo a papà e mamma. Siete d'accordo? C'è quello che è più aperto alle loro necessità e quello che... mamma è un po' più militare? No. No, non è mamma. Io sono più, come dicono loro, a Roma si dice spesso scialla, nel senso che io sono abbastanza tranquilla, perché mi ricordo di quando io ero adolescente. adolescente, quindi un po' capisco, no? Certe loro dinamiche. Io capisco alcune loro dinamiche, quindi sono più morbida. Lui ne capisce altre e quindi diciamo che dove sono più morbida? Il fratello sta guardando, beh, io eh. Dove sono più morbida io? È un po' più rigido lui. Io sono un po' meno tranquillo perché mi ricordo di quando io ero giovane. Sì, ecco qua. Fantastico. No, nel senso, è dire che come se lo dire avete fatto, state facendo un'ottima riuscita, perché Fabio tu eri più... No, però voglio dire è chiaro che... Scavezza collo? No, no, scavezza collo no, però è chiaro che soprattutto per i giovani d'oggi diciamo che vivere il mondo con tutto quello che c'è a disposizione è abbastanza difficile e quindi diciamo noi abbiamo soltanto il compito di cercare, perché poi possiamo fare, diciamo no, fino a un certo punto, di aiutarli, ecco tutto qui. E quindi però sulle decisioni importanti siamo sempre in sintonia. Poi è chiaro che su qualche particolare diciamo siamo magari, no, un po' il bassone e la carota. Diciamo così. Quando litigate tutti e sei a casa, che succede? Cioè, fratelli che discute... I cani abbagliano. I cani abbagliano. Questo uomo è un genio. Questo uomo è un genio. I cani abbagliano quando si litiga tutti. Sì. Insomma, però succede anche questo, vero? Sì. Sì, sì, sì. I vicini di casa lo sanno nel senso che fortunatamente come vicini di casa abbiamo una famiglia di amici che hanno otto figli. Quindi diciamo che ci compensiamo tranquillamente, siamo proprio rilassati perché sappiamo... Allora fate una squadra intera di calcio. Facciamo una squadra intera di calcio, è bellissimo, bellissimo perché poi ci aiutiamo tanto. Vi date una mano? Sì, 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 sicuramente. Voi avete due figli e di questo parliamo tra un attimo perché c'è tutta una storia molto speciale da raccontare. Due figli in particolare, ovviamente i primi due, ravvicinatissimi tra loro. Ecco, quello è un momento stupendo, credo, ne sono sicura, e complesso al tempo stesso. Due figli che arrivano così vicini. Diciamo che quello è stato un momento, diciamo, è stato un po' lo spartiacque del nostro matrimonio, e anche della nostra vita perché io in quel periodo poi lavoravo a Milano, facevo avanti e indietro tutte le settimane e quindi diciamo che avevo anche un po' sulla, non dico sulla coscienza, però il pensiero di mia moglie a casa con un bambino di 4-5 mesi, incinta, perché poi Benedetta e Matteo hanno 15 mesi di differenza. Quindi comunque è stato un periodo abbastanza pieno, sicuramente impegnativo per Francesca, però è stato un momento fondamentale per la nostra vita perché ci ha aperto definitivamente alla vita vera. Poi me lo raccontate anche come vi siete conosciuti? Ah sì, certamente. A scuola? No, tu eri già andato via da scuola. Però ci conoscevamo a scuola. Facevamo lo stesso liceo. Ci vediamo tra un attimo a loro solare, attenzione. E' meraviglioso perché a loro solare noi partiamo con un'idea e poi per fortuna la esageriamo sempre, quindi proprio vi stiamo raccontando famiglia, il concetto di famiglia, papà, mamma, figli, quanto è bello e quanto è difficile, quanto è importante, ma in maniera speciale Francesca Siena e Fabio Forieri, anzi Francesca Siena Forieri e Fabio Forieri. No, non è cosa. Quattro figli, due cani, i vicini di casa con otto figli. Eravamo rimasti a... Fabio ci ha anche stupito, diceva, ci siamo conosciuti a scuola, facevo i capelli tutti ricci, avevo pure il codino. E beh, ho fatto un cambio di look. Un po' forzato ma... Un po' forzato ma va benissimo così. Quindi vi siete conosciuti? Sì. Praticamente frequentavate la stessa scuola? Io ero amica del fratello, frequentevamo la stessa compagnia e dopo che io mi sono diplomata, lui era già fuori perché era già all'università, uscendo, ridendo, lui mi faceva tanto ridere e sorridere. E tra un divertimento e un altro, diciamo, ma era un rapporto all'inizio su cui nessuno dei due ci scommetteva tanto. Ma meno male. Invece, eccoci qua. E sì, è stata una bella storia, vissuta sempre a pieno, nel senso che abbiamo due caratteri molto forti e quindi il fidanzamento è stato abbastanza travagliato. E movimentato. E movimentato. Perché, beh, io ho un bel caratterino e quindi... Questo si sta notando. Si sta notando, non lo so. Cioè, il suo marito è sempre zitto. No, no, confermo. Facevo così con la testa. Lei conferma. Il signor marito conferma. No, sto scherzando, ovviamente, Francesca. Sì, sì, no, ma è vero. È una verità. Allora, Fabio, qui veniamo al dunque. Ci vuole, per una mamma che ora scopriamo, saper essere mamma per tanti e anche tant'altri ragazzi, il carattere ci vuole, no? Chiaramente. Però si è felici insieme se uno comprende appieno il carattere dell'altro. Assolutamente sì. E soprattutto si è felici insieme quando uno scopre che più si va avanti e più è bello. Felicenza, è vero, è vero. Che il tempo che passa. Assolutamente sì. E soprattutto si è felici insieme quando uno scopre che il matrimonio è quello che ti dà la possibilità poi di essere anche genitore, no? Io diciamo che avevo sempre la voglia, la speranza così di avere una famiglia. E la cosa che, diciamo, oggi posso apprezzo tantissimo è il fatto che il nostro rapporto, cioè il rapporto mio e di Francesca, è il faro, diciamo, no? È quello che ci guida, tra virgolette. I figli sono un dono e come tali, tali secondo me vanno vissuti. E quindi anche nella loro educazione, nel cercare di, così, aiutarli nella loro crescita, la cosa importante secondo noi, perché in questo lo condividiamo, è la prima cosa, è quella di salvaguardare il nostro matrimonio, cioè il nostro rapporto. Quanto siete belli. Ve lo posso dire, ve lo posso dire. Sentite un po'. Allora, Francesca, parlato di meno ma quando parla, Fabio le dice, e le dice tutte giuste, come peraltro Francesca, che era consulente legale di un'azienda, poi arriva al quarto figlio e decide di fare il lavoro più impegnativo, più bello, più speciale, più straordinario al mondo, la mamma. La mamma, ad un certo punto, aiuta i bambini del Centro Aiuto alla Vita della parrocchia Santa Giovanna Antida Ture di Roma, per cui oggi ti devo chiamare presidente di questo centro. Tu sei una mamma che ha deciso ad un certo punto di aiutare le altre mamme. Tu sei stata aiutata ad un certo punto della tua vita, quando i tuoi figli erano piccoli, tanti, stupendi, ma un esercito. Sì. E a un certo punto hai detto, io devo ricambiare questo aiuto. Sì, sì, sì. In che maniera? Allora, lo spartiacque, come diceva lui, non è tanto per noi, diciamo lo sconvolgimento vero, non è quattro figli, ma è stato tra un figlio e la seconda gente, che è benedetta, molto vicine. Questa cosa mi ha messo in crisi. Io che pensavo di appunto sopportare tutto, anche io insomma volere una famiglia in un certo modo, tante belle teorie, poi nella pratica in quel momento lì sono andata in crisi, perché avevo appena ripreso appunto a lavorare, avevo già fatto il mio progetto di vita, come noi donne facciamo spesso tutti i nostri bei progetti e programmi, questa gravidanza inaspettata, ma ovviamente accolta, mi ha messo in crisi. Da questa crisi, come spesso accade, nascono poi le cose più belle. Come diceva Insta, la crisi è un'opportunità. È un'opportunità grandissima e io vedo che nella mia vita le crisi, dietro l'angolo c'è sempre una grazia ancora più grande. In quel caso è stata proprio la grazia più grande della nostra vita, infatti mia figlia si chiama Benedetta non a caso, perché questo mio smarrimento, questa mia solitudine che ho provato, anche se ero circondata da una bella famiglia, le nostre famiglie di origine che ci aiutavano, noi facciamo anche un percorso di fede nella chiesa e quindi comunque avevamo una comunità di fratelli che ci sosteneva, però io profondamente mi sentivo sola. E allora ho cercato e ho bussato, all'epoca c'era questo centro di aiuto alla vita che era sempre nella nostra zona, in zona EUR, e sono stata accolta. In realtà sono andata lì per caso, ma il caso non esiste. E il fatto che io mi sia sfogata così, con questa volontaria che era davanti a me e che abbia appunto parlato della mia frustrazione in quel momento e che sia stata ascoltata in un altro modo, mi ha aperto appunto la porta a questo servizio. Poi forse Francesca serve, dico serve con il verbo servire, con la S maiuscola, il terzo soggetto. Siamo, quando c'è la fortuna di avere una famiglia che ti abbraccia, che è tutta lì per te, però a volte si ha proprio bisogno di andare a bussare ad un'altra porta. Questa porta offre ascolto, assistenza sanitaria, corredino, sostegno all'allattamento al seno, pasti, alloggio, la Presidente ce l'ho qui davanti a me, a tantissime mamme, a tantissime Francesca, che non aveva problemi di alloggio, non aveva probabilmente problemi di completine e di come vestire i bimbi, però a tutte le donne che hanno, che chiedono aiuto, che chiedono aiuto come madri. Quante ne avete aiutate sinora? Allora, diciamo che prima appunto in questo caso io avevo un ruolo di volontaria, adesso, da quando abbiamo aperto nella nostra parrocchia Santa Giovanna Antida, dal 2011, sono passati undici anni e abbiamo assistito un totale di circa mille mamme, sono nati 940 bambini, quello lo so perché c'è il contatore. Però, 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 bravi! Quindi questa è Francesca, quando io all'apertura ho detto una mamma che fa la mamma anche di altri figli, e quattro, vi sembravano tanti, il 900? Il 940. Il 940 sono un pochino di più, insomma, voglio dire. Allora, è arrivata una cartolina. Sentite un po' che cosa dicono, non i 940, ma i diretti interessati. Guardiamo. Ciao mamma, nonostante le due sbroccate quotidiane a casa sei una grande mamma perché ti prendi cura di moltissime ragazze in difficoltà e per questo ti ammiro molto. Un bacione. Ciao mamma, ti vogliamo bene, siamo orgogliosi della tua attività che porta avanti ogni giorno. Ti vogliamo un mondo di bene, sei una mamma spettacolare perché aiuti le altre mamme come te. Sono una mamma veramente speciale e ci rendi veramente orgogliosi di averti. Eh, signori, sbroccare gli amici che non sono di roma per quando la mamma, come dire, le vengono un po' sbroccare. Dico bene Fabio, no? Succede. Sì. Questo era tutto dedicato alla mamma, ma era dedicato alla mamma per questo suo grande impegno. Ma assolutamente sì, è un impegno bellissimo che coinvolge, diciamo, tutta la famiglia ed è il classico impegno che non ti fa sentire assolutamente la fatica. E' importante avere però un papà di 940 bambini accanto, vero? Perché le mamme che aiutiamo, il problema principale è questo, che non ci sono i papà. Dove siete papà? E quindi io sono così fortunata proprio perché ho lui accanto. Il mio essere mamma dipende anche molto da lui, dal sostegno, dalla stabilità. E quindi proprio per questo motivo noi cerchiamo di ricreare con queste ragazze di varietà, anche signore un po' più grandi, questa comunità familiare che magari loro non hanno. E perché, come si dice in Africa, per fare un bambino ci vuole un intero villaggio. E anche questa forma, diciamo, di accompagnamento fondamentale che magari tanti anni fa, quando mia mamma era piccola, c'era, no? C'era, e poi te lo stavo per dire Francesca. Questa comunità c'era, adesso non c'è più per tanti motivi. Ha perso un po' i contorni, mettiamola così. Però Francesca Siena Forieri e Fabio Forieri, Benedetta, fu la scuola che li fece incontrare, hanno le idee molto chiare. Quattro figli e altri 940. Grazie di essere stati da noi. Grazie, grazie, grazie. E portate il bacio a casa. Grazie. Grazie. Papa Francesco, 7 gennaio 2018, Melia nella cappella Sistina per la festa del battesimo. Del Signore ha detto che la fede si può trasmettere soltanto in dialetto. In dialetto, sentiamo. La trasmissione della fede soltanto può farsi in dialetto. Nel dialetto della famiglia, nel dialetto di papà e mamma, di nonno e nonna. Poi verranno i catechisti a sviluppare questa prima trasmissione, con idee, con spiegazioni. Ma non dimenticatevi questo. Si fa in dialetto. E se manca il dialetto, si accassa, non si parla fra i genitori quella lingua dell'amore. La trasmissione non è tanto facile. Non si potrà fare. Non dimenticatevi. Il vostro compito è trasmettere la fede. Ma farla col dialetto dell'amore, della casa vostra, della famiglia. Papa Francesco. Papa Francesco, la trasmissione della fede si può fare soltanto nel dialetto dell'amore. Nella lingua della famiglia di papà, mamma, nonna, nonni, eccetera, eccetera. Noi abbiamo però qui fatto tutto insieme, abbiamo preso tutto, abbiamo due splendidi genitori che sono anche nonni, ma dei baby nonni. Daniela Perri e Gianni Palombi, ben arrivati. Grazie. Allora, dicono, no, hanno sicuramente due figli e su questo non ci sono due. Andrea ha 30 anni? Sì. E che c'è? Vi siete sposati a 12 anni? Qualcuno in più? Qualcuno in più. Qualcuno in più. 25, io 23. Bambini, bambini, siete meravigliosi. E invece Roberto, che è il piccolino di casa, anche lui una differenza minima rispetto a... Sì, 17 mesi. 17. E qui torniamo alla domanda di prima. Da una parte uno... Mamma mia! Ah, però! Sorrisoni belli ne abbiamo? Che ragazzi! Eh, guarda la mamma! Guarda la mamma! Teniamo la ferma! Dovresti andare, signora. In estasi, in estasi. In estasi, c'è ragione, è una meraviglia. Allora, come se non bastasse, adesso poi raccontiamo tutta la vostra storia e l'impegno a un figlio immediatamente accanto all'altro, quindi è una cosa meravigliosa, però doppio mal di dentini, doppie poppate, doppio tutto. Questi figlioli splendidi, uno di questi figlioli è già papà, giusto? Il nipotino si chiama? Gianluca. Rimanga seduta però, signora, non mi vuole via! Non mi vuole via, perché sono già le nonne, sono mamme due volte! Gianluca di anni? Quattro anni e mezzo. Quattro anni e mezzo. Oh! Eccolo qui! Guardatelo qui! Nel giorno del suo battesimo, mi pare di conoscere il sacerdote che lo sta battezzando, ma ora ne parliamo. È lui, è lui. Allora, sentite, voi in che dialetto parlate? Avete parlato e continuate a parlare ai vostri figli e al vostro nipotino? Sì. Ma un... Dialetto della fede, chiaramente, intendo dire. Sì, in dialetto della fede abbiamo cercato di, diciamo, tramandare quello che noi avevamo ricevuto dai nostri genitori anche con i nostri figli, insomma. Un'educazione cristiana che, diciamo, da semplice praticante poi in noi e anche poi nei figli si è trasformata in un servizio nella Chiesa, nelle varie attività, catechismo, altri impegni. In servizio agli altri, il senso è questo, no? Sì, aggiungo solo una cosina. Ma solo una, siamo proposte. Un linguaggio molto semplice, un linguaggio molto semplice. Dalla buonanotte Gesù, della sera prima di addormentarsi, a raccontare chi era Gesù, ciò che faceva Gesù. Quindi un linguaggio molto semplice. Mi piace ricordare il linguaggio di Don Camillo, sapete, ricordando il meraviglioso Giovanni Guareschi. Intanto da questa fotografia viene fuori un quadro, devo dire, aggiungo anche le nuore però, che sono deliziose. Qui abbiamo proprio il momento del, insomma, questo l'abbiamo vissuto tutti, ma quanto è bello rivederlo, no? Metti tu la stella sull'albero. Questo è lo zio di Gianluca. Sì, questo è lo zio, certo. Gianluca ha quattro anni. Allora, per arrivare però a tutto questo, abbiamo un matrimonio lungo, iniziato quando? 33 anni e mezzo fa. È precisa lei, è. 33 anni e mezzo fa. Incontrati quando? Dove? È vero che si incontrata in parrocchia? Allora, in realtà ci siamo incontrati ad una festa di compleanno. Com'era vestita? Se lo ricorda? Non me lo ricordo. Però, però... Ci fu un aneddoto che forse è un gioco di prestigio che mi è riuscito e quindi sono riuscito ad accallappiarmela, no? No, me lo racconti questo tecno. Perché poi, insomma, una festa di giovani, io avevo 18 anni, 17. Lui 17, lui 18. E quindi, insomma, qualcuno aveva fumato, c'erano delle cicchie di sigarette in un po' sacenere. E io dissi, quante saranno, sai, il gioco che si fa da... Dissi, indovinai il numero e lei è rimasta un po' sorpresa. Sbalordita. E quindi, insomma... Impressionata. Ho avuto un gioco facile, voglio dire. Ma quando si torna... Allora, dalle cicchie di sigaretta a un... Adesso mi casca anche questo... A un favoloso... E quando dico favoloso matrimonio, intendo dire che voi siete stati da subito due bravi ingegneri della costruzione di un bel matrimonio, no? Sì. Cioè, il vostro vivere, la vostra fede, il vostro credere in questo istituto del matrimonio ha fruttato bene. Allora, diciamo che effettivamente ripensando ai nostri anni passati, le scelte, le fatiche, quello che è la nostra vita, si nota sempre una presenza costante. Sì, ingegneri mi piace come... Ingegneri, buoni, ottimi ingegneri della famiglia. Come costruzione, perché abbiamo avuto delle fatiche. A sei mesi di matrimonio lui è stato mandato a lavorare in Sardegna. Quindi io, ventenne, ho preso un colpo. E da lì la scelta poi, siamo stati un paio di anni così separati, e poi la consapevolezza che un matrimonio così non poteva esistere. E quindi io ho lasciato il mio lavoro e l'ho raggiunto. E l'ha raggiunto. Quanto bene vi volete voi due? E poi uno. Tanto. Tanto, tanto. Tanto, tanto. Allora, non voglio perdere, ne eravamo partiti dal nipotino. Però guardate, il dialetto della fede a cui faceva riferimento con queste parole meravigliose, come sempre, Papa Francesco, è anche questo. Cioè, io credo che vedere due genitori che si vogliano così bene, che crescano in un credo personale, in una fede, no? La fede è un dono e la fede è una pianta che va anche curata. Continuamente alimentata. Esatto, alimentata. Ecco, credo che il più grande dono per i vostri figli forse sia stato intuire il vostro linguaggio prima ancora che voi gli spiegaste le cose. Insomma, siete un esempio voi due per i vostri figli. Sì, sicuramente, ecco, la fede è anche un fattore esperenziale, no? E quindi noi, inseriti in parrocchia, poteva anche non essere così, però magari per loro è stato facile vivere questa atmosfera di comunità, di servizio, e quindi hanno anche loro cominciato nell'oratorio, insomma, come fascia di età, diciamo, piano piano, un graduale... Sono catechisti? Chi è catechista? Sono stati entrambi catechisti di oratorio, poi il primo si è arruolato, quindi anche lui è partito, è uscito di casa molto giovane, e l'altro è ancora catechista. E voi siete catechisti? Io sono catechista. È catechista, io sono nel coro liturgico e mi occupo anche di organizzare le giornate di donazione del sangue quando in parrocchia. e, diciamo, organizzo anche la parte amministrativa delle varie manifestazioni, processioni, queste cose così, insomma, mi occupo un po' della parte... È bello perché lo dici con questo tono e col sorriso. Di solito l'orgoglio è dall'idea della spocchia, della boria, invece voi avete quell'orgoglio bello, di cuore. È bello vivere la comunità. È bello vivere la comunità. Questo sicuramente. Certo che sì. Sicuramente. Senta, le domande dei bambini quando si è catechisti, no? Io non sono mai stata catechista per il bene dei bambini, ma intendo dire, quando ho fatto catechismo, però l'ho sempre lì ad alzare la mano. Quello è il momento in cui devi proprio apprendere, o devi avere dentro, che nel vostro caso è sicuro, il tono della giusta risposta. Cioè, devi sapere ascoltare la domanda e dare la giusta risposta. Allora, io dico sempre che fare catechismo con i bambini si riceve e non si dà, perché le domande dei bambini aprono un mondo a quello, ma di profondità. Vedere, ascoltare delle domande molto profonde, molto piene di sentimento, che ci mettono proprio il cuore, ti riporta all'essenziale. Allora, noi forse adulti ci facciamo troppi giri di pensieri, troppi giri di parole, loro sono diretti. Loro sono diretti. Qualche emettroto ce l'avete? Una voglia? Sì, tanti, tanti. Dal perché, come è nato Gesù, perché è nato lì, perché è stato maltrattato, oppure perché ha guarito. Perché? 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 Ma se faceva tanto bene, perché non gli vogliono tutti bene? E lì è, noi adesso stiamo parlando da persone, ma sapete è tutta la nostra puntata che corre su questo filo, da persone adulte, ma il senso è questo, cioè i genitori, e poi si diventa genitori, nel senso migliore del termine, anche dei bambini del catechismo. Come no? Si estende questo rapporto di parentela, di amore. Come no? È un lavoro duro, è un lavoro bellissimo e difficile. È un lavoro meraviglioso, ma non è un lavoro. Per me è la vita. Per me è la vita. I miei figli sono stati, e uno dei due ancora catechista, sono catechisti, ma i compagni dei miei figli sono figli nostri. I catechisti che noi abbiamo in parrocchia dell'oratorio, per noi sono... Qual è la vostra parrocchia? San Buonaventura da Bagnoreggio. San Buonaventura, siamo a Roma, sì. Siamo a Roma Torre Spaccata. Torre Spaccata a Roma. Gianluca, perché qui abbiamo parlato, a parte la delizia di questa coppia, tanto lo state pensando pure voi, ma io ho il piacere di sottolinearlo. Gianluca ha quattro anni e mezzo, è piccino, però gli state già... Allora, intanto ci chiama Nonna Dani e Nonno Gianni. Nonna Dani. Nonna Dani. Nonna Dani. Ovviamente. L'angelo custode glielo avete già insegnato, vero? Sì. Eh sì. Fresco, fresco, diciamo, ecco, questo al battesimo. E con lui, anche lui, le prime domande su Gesù in occasione del presepe, no? Abbiamo visto la foto dell'albero e perché il presepe spostava le pecorelle e così raccontavamo, no? Era più piccino e io raccontavo quello che era avvenuto e lui stava lì e ascoltava. In tutto ciò, Don Stefano, vi dà, che noi abbracciamo e salutiamo con immenso affetto, eh, vi dà una mano, insomma, che lui è un parroco. Sì, sì, un parroco presente. Molto in gamba, molto in gamba. Sì, sì, l'episodio del presepe poi, ecco, si scontra un po' con la mia... Nel senso che quest'anno è stato un presepe molto mobile, perché io sono molto stanziale, no? Così, invece le pecorelle qui, il pastorello qua, invece lui arrivava, Gianluca, ogni giorno... C'è trovato sto San Giuseppe improvvisamente in cucina. Bravo, esattamente, era con il lupo in montagna, ho detto, vabbè, farà una scampagnata. Ma anche questo è il dialetto che devono saper parlare i nonni. Anche San Giuseppe che fa una scampagnata, anche tutte quelle statuette del presepe che momentaneamente, Gianluca, tu hai posizionato altrove, ma vedrete che crescendo diventerà un bravo catechista anche lui. Seguendo voi che parlate una lingua speciale, grazie di essere venuti qui, sapete? Grazie a te. Vi ringraziamo tantissimo. Grazie, 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 grazie. Non mi devo fermare solo per un attimo, non mi devo fermare solo per un attimo. Allora, tra un istante vi presentiamo un ragazzo che ha tantissimi figlioli e figliole, ma tanti, 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 nonostante la sua giovane età. È un sacerdote particolarmente brillante. Vi racconteremo la sua storia. Tra poco, Allora Solare, grazie. Ma che belli, ma che belli. Allora, allora, nonni, genitori, io includo sempre anche gli zii perché sono fondamentali, insomma tutti coloro che sono all'ascolto in questo momento, tutti coloro che costruiscono e fanno famiglia con tutta la fatica del caso. Noi lo stiamo raccontando dall'inizio della puntata. Per chiudere, siamo ancora in onda, è voglia ancora per un bel po', ma per proprio concludere la puntata, diciamo così. Abbiamo chiesto di raccontarci come parlare ai bambini della fede a un giovane sacerdote che siamo molto felici di avere in studio con noi, Don Matteo Gattafoni. Grazie. Buongiorno, grazie a te Paolo. Ben arrivato Don Matteo, ci diamo del più. Parroco di Fara San Martino e parroco di Palombaro. Non amministratore parroco, parroco di Palombaro. Siamo in provincia di Chieti, vero? Ben arrivati innanzitutto. Grazie. Allora, poi raccontiamo ovviamente anche la tua strada, il tuo percorso, ma quando si tratta di raccontare, per racconto intendo dire di spiegare le preghiere e la fede ai bambini, quanta fatica o quanta insalita è la strada? Io cerco di partire sempre dalla vita quotidiana dei bambini, perché la preghiera è relazione, è relazione con Gesù. Quindi in quella relazione dobbiamo portare tutte le nostre relazioni. Quindi il bimbo porta nella relazione con Gesù la sua quotidianità. Se stesso. Porta se stesso. Il mondo che lui vive ogni giorno. La famiglia, la scuola, gli amici e la parrocchia con i primi incontri. Allora, i bambini, adesso se ci mettiamo a dire le domande dei bambini, veramente ci servono sei ore e non basterebbe. Però le domande dei bambini, quali sono? E ride. Quali sono? Rido perché capita spesso. Capita. Proprio l'altro giorno, ad esempio, un bimbo, Emanuele, è venuto con il papà per il battesimo del fratellino Lorenzo. E mi ha chiesto, Don Matteo, perché dobbiamo battezzare Lorenzo? Momento di panico, cosa rispondo a cinque anni, Emanuele? Come fargli capire il battesimo? Allora mi è venuto in mente, ecco, il mondo del bambino. Gli ho detto, Emanuele, ma tu quando vai al mare? Immaginavo la risposta. Cosa porti? L'ombrello? L'ombrellone. Ho detto, bravo. Quando nasciamo, è come se abbiamo un ombrellone che ci fa ombra, che non ci permette di vedere il sole, la luce, che è Gesù. E ci vuole riscaldare, ci vuole amare. Il battesimo toglie questo ombrellone e permette alla luce di toccarci. E non ci fa scottare. E non ci fa scottare. E Emanuele è rimasto convinto e felice. Bravo, bravo Don Matteo, bravissimo. Questo lo può fare chi ha il mare davanti e il gran sasso alle spalle. È vero, la maiella. La maiella, chiedo scusa, è già una gente tosta e tenace. Benissimo. Allora, che cosa fa però Don Matteo Gattafoni? Fa anche, sia chiaro, non è soltanto questo. Crea quest'idea. Attenzione ai colori. Questo è un libro gemello. Il mio amico Gesù. Per lei e per lui. E chi già sta pensando, ma come? Diversificato. Perché per le bambine è una cosa diversa o per i bambini è una cosa diversa? L'altro lo tengo ancora. Lo nascondo. Che cos'è questo librino? E perché fatto così, in rose e azzurro? Innanzitutto questo libro è nato durante il tempo della pandemia. In modo particolare durante il Covid, durante i tre mesi del lockdown, in cui era difficile incontrare i bambini per la catechesi. Poi non avevamo, anche dopo la ripresa, grandi spazi parrocchiali. Quindi cercavo in qualche maniera di entrare nelle case, di far sentire la mia carezza, la mia presenza a loro. Ora ho pensato di creare questi piccoli libricini, azzurro e rosa, perché ognuno lo sentisse proprio. Il maschetto sentisse anche un colore di richiamo suo, la femminuccia, il suo colore. In cui potessero loro scrivere una preghiera, potessero loro colorare, potessero loro personalizzarlo, così da sentirlo proprio. E tanti lo tengono ancora sul comodino. E queste preghiere, perché quando lo si apre, non ci sono le preghiere, se me la passi Don Matteo, canoniche, cioè intendo dire, non ci sono le preghiere che siamo abituati, e che il catechismo ci insegna a maggior ragione, e che nel dialetto di casa, come ha detto Papa Francesco, di famiglia, si impara a dire. Ci sono queste preghiere che sono, dopo il pasto, Grazie Gesù perché ci hai fatti stare insieme, ci hai fatto condividere il pane e l'amicizia. Vogliamo restare uniti tra noi per restare uniti a te. Amen. Partire sempre dalla loro quotidianità. Quindi preghiere... Se Dio è padre, il bambino comprende che Dio è un papà, si può rivolgere a lui come si rivolge al proprio papà, sperimentandone quella forza, quel sostegno. Quando la Chiesa passa al bambino come madre, allora il bambino capisce che la Chiesa è un luogo di accoglienza, è un luogo di familiarità. Dio è madre, disse Giovanni Paolo I. Sì, è vero. Così anche Gesù, se il bambino comprende che Gesù è un amico, può avere fiducia di lui. Quindi può rivolgergli la sua preghiera di lode, di ringraziamento, di affidamento. Eh, voglio dire, basta aprire il Vangelo, non lasciate che i bambini vengano a me. I bambini, la materia migliore che esista al mondo. La preghiera è amare Dio, dice Don Matteo, in ogni momento attraverso le altre persone. Sì. Bello questo. Non l'amore che noi sentiamo di poter dare, perché fin lì... Ma Dio passa sempre attraverso l'altro. Siamo abbastanza convinti. E a volte anche quando l'altro non ci piace, dobbiamo fermare. È proprio lì che ci dobbiamo fermare. È proprio lì. È attraverso l'ostacolo che possiamo entrare nel cuore dell'altro. E forse sentirne anche la presenza di Dio che ci sta interpellando, forse a cambiare noi stessi. I bambini sono più capaci di superare quegli ostacoli che noi più grandi portiamo sempre questa sticella con fatica, anche sempre più in alto. Invece i bambini sono più semplici. Ecco perché Gesù ce l'ha dita come esempio. Sono più semplici nel senso di... Hanno meno schemi, meno malizia. Riescono, come dice un cantautore, a far pace più facilmente. Sì. Riescono a stiepidire anche i momenti di difficoltà, di crisi. Che bella questa, stiepidire. E voi dite, ma un bambino, io il rosario... Il rosario... Il sacerdote più simpatico che esista. Perché d'altronde lui ha una storia molto bella che riusciremo a raccontare, sì. Prendi un bambino piccolo, i bambini sono piccoli, e fagli recitare il rosario. Che è meraviglioso, il rosario. Però forse è spiegato ad un bambino. Fermare un bambino per quel tot di tempo, no? Che è giusto, che serve per farlo. Rischia di annoiarli. Rischia di annoiarli. E allora che cosa fa il nostro Don Matteo? Scrive il libretto del rosario per i bambini. Sì. In cui ricordo come ho imparato io a recitare il rosario. Attraverso questa esperienza avuta con questa suora, il suo Giovanna, che è un po' la suora della mia infanzia, in cui sono cresciuto nella mia parrocchia. E ricordo che lei mi faceva sedere accanto a lei, teneva le mie mani sul rosario e accompagnava le mie dita nella preghiera dell'Avea Maria. Sì. Allora questa esperienza l'ho riproposta in questo testo. Poi fondamentalmente invitando i nonni a vivere questa dimensione di preghiera con i bambini, con i propri nipoti. Quindi non la recita del rosario come la intendiamo noi, ma prima di tutto, prima della recita del rosario, la spiegazione data per bambini con immagini fatte dai bambini. Guardate, questa è la visita di Maria alla cugina Santa Elisabetta. Mi metto per il nostro, Alessandro Tresi, il nostro regista. Ecco qua. Ed è bellissima la rappresentazione. È bellissima. In questo caso abbiamo un unico libretto, perché i bambini e bambine chiaramente... Quello loro possono comprendere anche il messaggio. Ma questo lo possono comprendere i grandi, non Matteo? A volte rischiamo, lo dico, tra virgolette, di dover ritornare indietro per capire... A me capita tante volte durante le omelie, in cui parlo ai bimbi e mi dicono i nonni e i genitori, abbiamo capito anche noi. Abbiamo capito anche noi. Il battesimo di Gesù al Giordano. Ecco, i bambini che cosa fanno? Leggono queste pagine, questi misteri, piano piano uno per uno, e poi recitano l'Ave Maria. E poi recitano l'Ave Maria. Allora, questo giovane e bravissimo sacerdote, che noi siamo molto contenti di aver accettato il nostro invito. Che bambino è stato ieri, praticamente? Perché sostiene di avere... Questa è una fotografia stupenda che non avevo... Sì, questo è l'inizio del catechismo. L'inizio del catechismo, ma... Voglio dire, belli tanti anche. Belli, sì. Sono tanti questi bimbi. Questa è la comunità di Farad San Martino. Sono un centinaio i bimbi. Un sacerdote, dicevo, sostiene di avere 30 anni. Secondo noi 21-22. Però lui invece aggiunge gentilmente gli altri. Che bambino sei stato tu? Tanto solare, tanto sensibile, ma tanto vivace. Tanto discolo. Pensa, Paola, che la prima volta che mamma mi racconta, mi portò a messa, sempre la stessa suora che mi insegnò a recitare il rosario, disse a mamma, questo bimbo è troppo vivace, disturba gli altri bambini. Ecco, questo bimbo, che vedete, è troppo vivace e disturba gli altri bambini. Non è che tu avessi qui voglia già di fare il prete, però c'è un aneddoto legato a questa fotografia. In realtà, qui avevo sei anni. Sì. Io mi divertivo con la mia bisnonna a celebrare la messa. Quando guardo questa foto, penso alla mia vita come una storia già scritta. Penso un po' all'esperienza di Davide, all'esperienza di Samuele, bambini. Scelti da Dio, da sempre, con cui Dio si è divertito a giocare, con i propri desideri e i propri sogni. La tua bisnonna Concetta vedeva tutto questo, e sai, i nonni, anche i bisnonni, che capiscono tutto prima, chissà. Avete già compreso. Chissà quanto avrà compreso già di te. La cosa bellissima di Matteo, che è diventato Don Matteo, è che ad una vita che era quella di un ragazzino discolo, ragazzo vivace, con mille idee per la testa. A un certo punto a questo ragazzo, e qui sta la bellezza della tua storia, arriva quella, è proprio una chiamata, arriva quel momento in cui uno dice, sai che c'è, la mia vita è più completa se faccio questa cosa. Attraverso un incontro. Quando è scattata questa cosa? Avevo sei anni. E dopo i sei anni? Dopo i sei anni avevo, era il primo liceo, in un incontro vocazionale, in cui la testimonianza di un sacerdote, prima da bambino, quella del mio parroco, l'incontro del mio parroco, poi con un altro giovane sacerdote, che raccontava la sua vita, leggevo nella sua storia i miei tratti, i miei dubbi, le mie paure, e là mi sono convinto, ho detto, signore, la mia vita è per te. Quando sei entrato in seminario? Appena dopo il liceo, avevo 18 anni. Sono diventato sacerdote a 25 anni, a giugno saranno 5 anni. 5 anni. Sono già nozze di legno, eh? Vero. È già un quinquennio importante, ovviamente nozze lo vedete qui con... Il mio parroco. ...con la chiesa. E papà e mamma, reazioni? All'inizio non sono stati molto felici, l'hanno presa come una grande sfida per loro. Però ricordo le parole di papà quando gli condivisi il mio desiderio, mi disse, fai quello che vuoi, perché tu lo faccia bene e tu sia felice. E ci ricorda proprio a Francesco che la nostra fede è innanzitutto attrazione. Oggi loro vedono la mia felicità, vedono la mia gioia e sono felice anche loro di questo. Don Matteo, a proposito di parlare il dialetto della fede in casa, ognuno ha la propria maniera. I tuoi genitori, evidentemente lo... I tuoi genitori o chi ti ha avvicinato ha saputo parlare bene? Ha saputo comunicare bene. Attraverso l'esempio, attraverso la presenza, accompagnandomi, stando con me nel cammino della fede. Tu sei felice oggi? È la cosa più importante. Tanto felice. Posso dire che si vede? Si vede. E si vede anche in questi... in questi piccoli, deliziosi libri di Don Matteo Gattafoni. Ve l'abbiamo voluto presentare, questo sacerdote, perché l'entusiasmo in tutte le cose, ma quando si parla in particolare di fede, è quella meraviglia che fa spostare le montagne, Don Matteo. Anche se sono pesanti come la maiella. È vero. Ok? Grazie di essere stato con noi. Grazie a te di cuore. Grazie di cuore. Portaci un po' nel tuo cuore e salutaci tutti i tuoi bambini. Grazie. Però questi te li posso chiedere? Certo. Così imparo di più. Imparo di più. Grazie signori, questo è il loro solare. Grazie a tutti. Grazie.